Benvenuti alla Scuola Edile d'Imperia per questo evento speciale. Evento che si inserisce all'interno delle manifestazioni della giornata mondiale della disabilità. Oggi saranno protagonisti i ragazzi, saranno protagoniste le loro famiglie e saranno protagoniste le aziende. Scuola Edile è da sempre molto vicina alle tematiche che oggi verranno trattate, alle tematiche sull'inserimento mirato nel mondo del lavoro, sull'inserimento mirato nel mondo del lavoro anche di fasce deboli e fasce svantaggiate. Questa mattina qua alla Scuola Edile diamo completamento a questo mese di dicembre dedicato alla disabilità. Un bel evento che abbraccia i ragazzi con le famiglie. La Scuola Edile si sta impegnando da qualche tempo ad essere anche una mortazione sociale con le famiglie perché i ragazzi qua vengono impegnati per tre anni e quindi sicuramente nel momento in cui si esce dalla scuola d'obbligo questi ragazzi possono in qualche modo essere affacciati già e interfacciati con il mondo del lavoro. Il Comune ha una serie di inserimenti di borsa lavoro proprio in funzione di questa attività che facciamo anche attraverso le persone diversamente abili è un'attività assolutamente importante e oggi avremo anche la possibilità di ascoltare le loro domande che ci faranno per quello che è il loro mondo ma soprattutto quello che è il mondo che tutti noi auspichiamo debba essere. Quindi una buona giornata ringrazio la Scuola Edile di aver organizzata e chiaramente il Comune d'Imperia è presente con tutti quei servizi che tutti i giorni mettiamo in atto sui disabili. L'iniziativa della Scuola Edile è estremamente importante perché si declina nell'assistenza soprattutto a soggetti meno fortunati per la quale la nostra ASL ha dedicato una struttura complessa che se ne prende cura. La cura non prevede solo un atteggiamento clinico o un atteggiamento terapeutico ma nel corso degli anni proprio in questa settimana ci sono state tutta una serie di iniziative a favore dei disabili perché il 3 dicembre è stata la giornata mondiale della disabilità e nella nostra provincia si sono articolati diversi eventi per ricordare l'importanza di questa giornata. Ma soprattutto è importante quello che sta facendo la Scuola Edile di Imperia perché si tende con questo tipo di lavoro a evidenziare non quello che i disabili non possono fare e che nel passato sono stati limitati nel loro accesso, o accesso nei loro percorsi sociali, ma si va a vedere a potenziale quello che i disabili possono fare come potenzialità e inserimenti lavorativi. Infatti la struttura dell'ASL dedicata ai disabili da anni ha una serie di percorsi con una stretta collaborazione anche con la Scuola Edile per l'inserimento lavorativo dei disabili.